entrano le nostre parole centro spirituale frattocchie anno 1991 a cura di vb guida nella camera oscura del cervello sotto forma di vibrazioni entrano le nostre parole di entità comunicanti e gli strumenti medium avendo una sensibilità maggiore rispetto alle altre persone percepiscono questo comunicare e portano all'udito dei partecipanti all'assemblea il pensiero dell'entità che si manifesta dal mondo dell'ignoto al mondo sensibile e fisico gli strumenti uomini e donne che fungono da radio ricevente per onde pensiero dopo la comunicazione ottenuta durante la seduta medianica ritornano normali l'entrata in essere dell'energia vitale che viene ininterrottamente emanata dal padre opera in tutte le creature ma una particolare onda vibrativa è destinata agli strumenti medianici è una vibrazione molto potente ricevuta nel momento del contatto e questa potenza varia a seconda dello stato di comunicazione in trance che può essere completa in semi trance in ultrafania in trasparenza e inveggenza in tutti i casi qui intervengono entità di luce che sono preposte alla guida di queste comunicazioni ed altre entità destinate per vari insegnamenti grazie 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 grazie